Giovedì 21 novembre alle 10.30 presso il porto di San Marco di Castellabate si terrà un'iniziativa organizzata dal Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, il pescato della dieta mediterranea del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, con la presenza dei pescatori che incontreranno gli studenti degli istituti alberghieri Anselkis di Castelnuovo Cilento, Piranesi di Capaccio Pestum. Alle 11 invece si terrà presso l'Approdo un incontro dibattito con i pescatori e gli esperti del settore presieduto dal dottor Tommaso Pellegrino, presidente del Parco, a seguire alle ore 12 show cooking con gli chef Maria Rina del Ghiottone, Alessandro Feo del Ristorante Feo, Gerardo Manisera del Ristorante Approdo. A chiusura dell'incontro una degustazione dei piatti preparati dagli chef e dagli istituti alberghieri. La manifestazione continua anche venerdì 22 novembre, la location sarà invece il porto di Marina di Camerota con l'arrivo dei pescatori e l'incontro con gli studenti degli istituti alberghieri Antonio Sacco di Sant'Arsenio e Carlo Pisacane di Sapri alle ore 11 presso l'Hotel America. Si terrà invece l'incontro dibattito con i pescatori e gli esperti del settore presieduto sempre dal presidente del parco Tommaso Pellegrino. Alle ore 12 show cooking con gli chef e a chiusura dell'incontro una degustazione dei piatti preparati dagli chef e dagli istituti alberghieri.